Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento il nostro Mazinga Z. Che splendido robot! Se potete correte e fate l'abbonamento, acquistatelo perché è qualcosa che mai prima è stato fatto. Datemi retta, perché io ho già evinto dai primi montaggi che qui c'è uno studio di progettazione pazzesco, eppure parliamo di un oggetto da collezione. Mi raccomando ragazzi, poi guardate anche i tutorial giapponesi come ho fatto io perché sono al numero 80 se non ricordo male. Ovviamente sono molto più avanti di noi perché è nato lì il Mazinga Z, quindi non potrebbe essere diversamente. E da lì io ho capito che era una collezione da fare. È un montaggio adesso comunque molto semplice che andremo a vedere, ma prima di fare questo vi farò vedere l'interno del fascicolo. Per quelli che hanno piacere di dare lettura e che ovviamente non hanno fatto la collezione, questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. E mentre vi do la possibilità di guardare le immagini e di leggere, io ringrazio doverosamente e volutamente tutti i miei iscritti che continuano a dar vita al mio canale. Vi ringrazio per le visualizzazioni e per coloro i quali ancora mi guardano ma non si iscrivono, se avete piacere, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Stavo pensando a qualcosa che vi volevo dire perché io inizio così, faccio il video, penso a quello che devo dirvi e poi arrivo alla fine e dico, caspita, mi sono dimenticato. Ecco, questo che vi sto facendo vedere in questo momento è qualcosa che dovete leggere. Se amate davvero il Mazinga Z, sono qualcosa di storico. pensate soltanto a quello che è costato questo progetto. Sì, noi lo paghiamo 13 euro, manca poi un centesimo, 13 euro a numero, ma cosa non c'è dietro come studio e spese? Io vi dico la verità, non mi lamento assolutamente. Guardate questo centro pagina che spettacolo. che bello, che bello, che bello, bellissimo. Saluto Michele, ciao Michele, saluto Stefano e saluto Pasquale che mi ha un'altra volta fatto un regalo, un dono meraviglioso con il cuore. Qualcuno di voi lo ha già visto. Mi ha regalato un video. Non è monetizzato, non guadagnerò mai neanche un centesimo con quel video, però quando me lo ha fatto... beh, io mi sono emozionato perché nemmeno le persone che avrebbero dovuto volermi bene mi hanno fatto mai una cosa di questo genere, quindi figuriamoci. Questo è quello che troveremo nell'uscita numero 8. Il collo, le antenne e la centralina elettronica. Abbiamo un'altra centralina elettronica e questo sarà poi il risultato finale, non di questo montaggio, attenzione, l'ho appena detto, del numero 8. Noi adesso andiamo a montare il 7. Poi, cos'altro vi posso dire? E questa è l'ultima di copertina che si ripete. Bellissimo. Allora, non vi serve alcun tipo di collante, vi servirà soltanto questa. Ricordatevi, come vi ho detto nel fascicolo precedente, questa è la leggenda dove, in virtù di quello che troverete disegnato nelle indicazioni dove andrà collocato un pezzo o una vite, c'è scritto, vedete quello che dovete fare, se è tratteggiato e innesto a secco, a secco vuol dire una vite da avvitare, infatti vedete qua che c'è il tratteggio. Innesto incollato, la linea sarà continua, ma ci sarà anche scritto sulle istruzioni, quindi state tranquilli, e la parte gialla sarà quella evidenziata dove voi dovrete andare a mettere il collante. Tutto qui. Adesso in questo montaggio andremo semplicemente a fare la parte toracica destra, questa è la sinistra che abbiamo montato nel numero precedente, il 6, e adesso andiamo a montare l'altra che continua di qua, che è la parte destra. Eccola qui. Piastra in alluminio. Andiamo le due colonne di supporto lunghe che sono in acciaio, le due colonne di supporto corte che sono in alluminio. Io farò la stessa cosa che ho fatto prima, come potete vedere, probabilmente questa è una fresatura che è stata fatta quando è stato messo il pezzo sul tornio per filettarlo, per renderlo cilindrico, probabilmente, perché di solito questa svasatura, vedete, qui non c'è e qui vedete che c'è la svasatura, si fa quando si mette una vite conica che deve scomparire, cioè deve rimanere alla stessa altezza del pezzo su cui andiamo a mettere la vite. In questo caso abbiamo due svasature da questa parte e di qua invece no. Io, come ho fatto prima, terrò le svasature da questa parte, però perché sono un pignolo da ricovero in realtà, perché poi qui sicuramente andrà poi un altro pezzo contro e quindi buonanotte. Non servirà nulla quello che vi sto dicendo. Ok, allora, montaggio molto semplice. In realtà è più semplice ancora di quello di prima perché, pur essendo uguale, basterà copiare questo e speculare sull'altro lato e quindi non ci sono problemi. Andiamo ad aprire i sacchettini. Ci serviranno dieci viti, dieci rondelle e sei bulloni. Alla fine avrete un avanzo di una vite, di una rondella e di un bullone. prendiamo il pezzo. Questo ovviamente va montato così. Guardate sempre le istruzioni voi. Guardate sempre le istruzioni. Andiamo a mettere il primo in questa maniera. Rondella, vite e dado. Bello questo sistema qui perché c'è il bloccaggio del dado, perché c'è la fusione già esagonale. evitiamo così di usare una chiave fissa dietro. Vi rendete conto che struttura hanno fatto per questa armatura, per questo robot? Pazzesco! qui è bello l'esterno dell'armatura, del robot, è bello l'interno, è bello tutto. Tutto. Allora stringiamo poi tutto alla fine. Adesso prendiamo semplicemente questa, vedete, e lo andiamo a mettere qua. Uno e due bulloni. E' sempre meglio avvitare in diagonale o di qua o di là, che tutto da una parte. Ricordatevi quello che vi ho detto negli altri video, se davvero mi volete aiutare. avete tre possibilità, però se non vorrete fare le prime due non importa. Le prime due si tratta di aiutarmi a crescere con una donazione economica, con il link che troverete in descrizione Patreon. La seconda è sotto ogni video che c'è scritto grazie. Cliccando sopra potrete fare una donazione, però sappiate che oltre la metà, non va a me. La terza invece, che è quella che secondo me è meglio per tutti. Oddio, non è che se qualcuno mi fa una donazione economica per aiutare il mio canale a me dispiace, però capisco anche che nessuno naviga né loro, né io né voi. Quindi ecco, penso che sia una cosa molto più facile, ma soprattutto assolutamente non è dispendiosa, che è quella che quando vi compare la pubblicità nei miei video e dopo pochi secondi leggete salta annuncio, voi non saltate l'annuncio, perché se mi saltate l'annuncio a me già entrano le briciole, così non entra nulla. Io uso questo esempio, se voi mi saltate la pubblicità, è come andare su un pullman e non pagare il biglietto. Primo o poi il pullman viene soppresso. Ecco, prima o poi il mio canale chiude, perché ragazzi vi posso garantire che l'impegno e la passione è una cosa che mi alimenta, però le ore sono tante e non ve le sto neanche a dire. Non ve le potete immaginare, solo chi ha un canale e pubblica come pubblico io si può rendere conto. Vi dico solo che per un video di 30 minuti ci vogliono dalle 3 alle 4 ore di correzione, più di 30 minuti per fare il video e più quasi 30 minuti per mettere 30 lingue di sottotitoli. Fatevi un calcolo e immaginatevi con 10 video che faccio ogni 8-9 giorni, le ore che ci vogliono, circa 40-50 ore ogni 10 video. Ecco, per quello vi dico, non vi sto chiedendo di mettere mano al portafoglio, anche se qualcuno di voi l'ha fatta e lo ringrazio tanto. Giovanni ti ringrazio tanto della tua donazione. Stefano ti ringrazio tanto della tua donazione. E ringrazio sempre anche Pasquale per il video che mi ha fatto. Grazie Pasquale. Però ecco, se voi guardate le pubblicità, mi aiutate immensamente ragazzi. Grazie, scusatemi, però io voglio tenere aperto il canale. Ed ecco perché mi soffermo ad ogni video a dirvi questo. Perché mi accorgo che mi saltate le pubblicità. Allora, controllate sempre la linea. Vedete, io qui con questo sono un po' più arretrato di questo, non va bene. Quindi io allento un po' tutto, appena appena, perché magari non è indispensabile fare questo. Però io sono abituato a lavorare bene. Perché come vi ho detto nell'uscita numero 6, quindi il video precedente a questo, fate attenzione perché abbiamo sì i fori dedicati, ma poi, vedete, guardate, vi faccio vedere. Così capite meglio. Vedete che questa linea non è in linea. Guardate invece cosa succede se io faccio così. Guardate questi due pezzi. Avete visto? Se io lo tiro un po' giù, guardate questa linea sotto che è perfetta. Guardate cosa succede. E questo fa la differenza poi, perché non vi trovate con i pezzi. Quindi mi raccomando, è una cosa che dovete guardare. Adesso lo sto centrando, controllo anche di qua. E dovrebbe essere speculare, quindi perfetto. Ecco, adesso io posso stringere tranquillamente che è perfetto. Capite? O meglio, mi sono spiegato? Capite? Capite di sicuro. Stringete in diagonale, non stringete solo da un lato e poi dall'altro. In diagonale, come si faceva una volta con le testate delle auto. Il canale di Michele è un canale dove, se vi iscrivete, vi segue in tutto. Le persone che mi scrivono in privato lo sanno. Io sono fatto così. Anche se non stiamo parlando di qualcosa di così importante. Non parliamo né di pane e né di acqua. Ma chiunque abbia avuto bisogno di Michele, e io ho potuto aiutarlo, nel mio piccolo fatto. Ecco perché vi dico, iscrivetevi e avrete la certezza che quello che vi dico, lo dico per il bene del modellino. E anche nostro, che poi psicologicamente, se montiamo una cosa bene, siamo più contenti. Ecco, adesso guardate. Ovviamente è molto semplice, perché basterà prendere i due pezzi di alluminio più corti e metterli in questi due fori. Andiamo a farlo subito. Quindi qua. Andiamo a farlo subito. e stringiamo tutto forte. Poi se avete una brugola meglio di questa, usatela, perché sì, ok, dobbiamo montare un robot, non dobbiamo fare chissà che cosa. Però, vedete il gioco che ha, è decisamente troppo, quindi devo ricordarmi di sostituirla anche io. Controllatevi tutte le viti e avvitatele bene. Andiamo a mettere adesso gli ultimi due pezzi lunghi e abbiamo finito questo montaggio. Dopodiché, come sapete, andrò a fare una rappresentazione di tutto ciò che abbiamo montato fino a questo numero, cioè il numero 7, e poi ci salutiamo. Andiamo a mettere adesso gli ultimi due pezzi lunghi e abbiamo finito questo montaggio. Avete visto, controllate tutto, così non avrete alcun dubbio sulla possibilità di aver lasciato qualche vite svitata. Perfetto. Guardate che bel pezzo. Ok, a questo punto, ah, un consiglio. Sapete che ci hanno dato questa, che è la scatola appunto, no? Però non fate l'errore di prendere le viti sciolte e metterle all'interno degli spazi, perché guardate che può succedere che la scatola vi si apra e vi cada, fate un macello. Cioè, se volete riporle qua dentro, mettetele prima nei sacchettini di altre collezioni, magari che avete fatto, sapete, quelli che si aprono col pollice indice, con lo sfregamento. Non fate l'errore di buttare tutte le viti qua dentro. Consiglio che vi do. Poi una cosa anche importante che ha fatto Ascette, che è appunto l'editrice di questa splendida, splendida collezione, è la raccolta differenziata. Mi raccomando, è una cosa importantissima, cartone con la carta, plastica con la plastica. E lo so, sarò anche rompino, però. Poi, prendiamo quello che abbiamo avanzato, se avete ricevuto i giusti pezzi, avete montato tutto correttamente, avrete un pezzo per ogni cosa. Quindi un bullone, una vite e una rondella. Fate così e la conservate. Adesso andiamo a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero. Ci salutiamo e io vado a prepararmi altri video di altre cose. Date un'occhiata alla playlist. Ed eccoci qua. Direi che dirvi che sono soddisfatto e dirvi poco, così come sono certo che lo sarà ognuno di voi che ha deciso di fare questa collezione. Ecco, guardate, poi questo pezzo andrà messo così. Ecco qua. Vedete? Sono veramente soddisfatto. Guardate che bellezza Koji Kabuto. sta aspettando il suo overbuilder. Che bello. Mamma mia che bello ragazzi. Ma quanto è bello questo Mazinga. Io vi dico una cosa, ma l'ho già detta. Sono sicuro, ma sono sicuro perché come si fa a pensare che non abbia un successone questo Mazinga. Sono sicuro che faranno il grande Mazinga, sempre così, faranno Goldrake e faranno anche il Jig Robot d'acciaio. Non come quel plasticone che hanno fatto adesso. lasciamo perdere, dai, cioè, non andiamo a riempirci la casa di plasticoni. Posso capire il Mazinga e il Goldrake degli anni Ottanta, ma quella è un'altra cosa. Ma ai nostri tempi andare a proporre a quella cifra un Jig Robot che non avrebbero neanche dovuto farlo fare in quella maniera, ma nemmeno per sogno. Cioè, Gonagai si è inchinato davanti a quelli che hanno costruito e progettato prima ancora questo Mazinga Z. Ma lo voglio credere, ma ci mancherebbe. Ma rendiamoci conto cosa abbiamo qui davanti. Ma io quando sono andato a prendere il primo numero che ho anche recensito di Jig Robot, ma ragazzi, no, 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 no. E quindi, tornando al discorso di prima, io sono sicuro per un fatto di logica e di intelligenza, non mia, eh. Parlo dell'intelligenza di quelli che, ovviamente, vedendo il successone del Mazinga Z, decideranno di fare anche quello che vi ho detto prima. Quindi continuare tutte le serie. E sono sicuro. E allora sì, caspita, che avremo delle collezioni bellissime. Non possiamo andare a mettere la ricciola col cavedano, che sono due pesci. Uno di acqua salata, la prima, la ricciola, con carni prelibate, simili al sottofiletto, migliore che ci sia di carne. E il cavedano, che è un pesce d'acqua dolce e non c'è paragone. Molto meglio la trota anch'esso di acqua dolce. Quindi spero che io sia riuscito a spiegarmi su quello che stavo dicendo e volevo dire. Questa è una cosa che davvero vi consiglia Michele di fare perché è qualcosa di splendido, meraviglioso. Non so più cosa dirvi perché mi dispiace per quelli che magari possono e sono titubanti, lo faccio o non lo faccio. Fatelo. E fatelo con l'abbonamento. Fatelo con l'abbonamento. Io non ci guadagno a dirvi questo. Non ci guadagno niente di niente. Ma ve lo dico perché con l'abbonamento io non ho mai avuto problemi. Se c'è un pezzo fallato c'è il servizio che ve lo cambia e non vuole neanche il pezzo indietro. Quando fate collezioni di 100 numeri, ragazzi, credetemi, non vi arriva solo un pezzo o due fallati. Ve ne arrivano di più. E quando andate dall'edicola a dire mi cambi il pezzo o uno o due ve lo cambiano. Poi poverini anche loro non è che possono cambiare i 10-15 pezzi su 100. Può succedere che questo vi possa accadere. Non è colpa vostra. È colpa del fatto. Io ho scritto sia da Shet, sia da Agostini, sia da Centauria. E io ho scritto e ho detto che manca completamente il controllo qualità. Loro si scusano dicendo che non ci sono problemi, però è anche una scocciatura, lo capisco. Fare le foto, le email, attendere il pezzo. È vero che, ripeto, con l'abbonamento il pezzo fallato arriva a voi. Con l'edicola dovete portarlo indietro. Bene ragazzi, io vi ho detto tutto. Vi ringrazio del vostro tempo. Mi raccomando, seguite Michele. Avete visto il particolare che vi ho fatto notare sull'allineamento? Io mi occupo di questo. Non faccio solo il montaggio. Io voglio seguire dall'inizio alla fine le costruzioni. Vorrei farne molte di più, ma non ce la faccio. E un'altra cosa. Sto cominciando a occuparmi anche di montaggi in privato. Quindi qualcuno di voi che avesse la voglia di fare un modello, ma si sente nell'impossibilità, per una ragione o per l'altra, di poterlo costruire, scrivetemi in privato e ci mettiamo d'accordo. Ciao ragazzi, grazie del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari e più cari. Al prossimo video. Ciao.